Benvenuti all'interno di questo splendido appartamento in via Melzi de Rille. Ci accoglie un'ampia entrata che si apre una doppia sala con due grandi finestre che riempiono la stanza di luce naturale e da dove si può accedere ad uno dei balconi dell'appartamento. Il salotto è diecente alla sala da pranzo, spaziosa e anch'essa con una bella vetrata. Uscendo dal salotto possiamo subito notare ed accedere a un bagno per gli ospiti. Molto luminoso. Dopodiché abbiamo una stanza studio che può diventare una terza camera e una cucina che è arredata, ampia, finestrata e con uno spazio dedicato alla zona lavanderia. Procedendo verso la zona notte possiamo notare questo bagno con doccia. spazioso e un secondo bagno con vasca. Molto carino. Procediamo il nostro home tour e vi portiamo all'interno di questa ampia camera matrimoniale che ha al suo interno una spaziosa cabina armadio. Il prezzo dell'immobile è di 1.580.000.